Se il 2012 è stato caratterizzato dall'aggravarsi della crisi economica e da una crescente disoccupazione, il 2013 si apre all'insegna dell'aumento generalizzato dei prezzi di beni e servizi. In attesa dell'introduzione dell'IVA al 22% che scatterà dal 1 luglio, cominciamo dalle spese di casa. La novità più impattante è quella della tassa sui rifiuti, la Tares, che costerà circa 64 euro in più a famiglia. Un rincaro del 25% che verrà calcolato non sulla quantità di rifiuti prodotti, ma sulla metratura dell'abitazione e verrà addebitato in bolletta il prossimo aprile. Complessivamente un dato che riguarda acqua, gas, rifiuti, energia elettrica, si va su 2.500 euro l'anno di spesa per famiglia media. Nei prossimi tre mesi invernali, infatti, la spesa media per il gas salirà di 22 euro, mentre unica nota positiva scenderà di 7 euro quella per l'elettricità. Aumenta invece il canone Rai che arriverà a 113,50 centesimi, così come crescono le tariffe postali, quelle aeroportuali e del 3% anche i costi dell'autostrada. Un aumento che interessa in particolare i pendolari, già colpiti dai rincari sul trasporto pubblico locale stabiliti dalla regione toscana lo scorso novembre. Aumenti modulati in base al reddito Isee delle famiglie. Chi dichiara un reddito superiore ai 36.000 euro è già costretto a fare i conti con l'aumento del 20% del costo dell'abbonamento al treno o ai pullman. Chi è voci di spesa, che sommate alle novità del 2013 appena ricordate, renderanno più amaro l'inizio del nuovo anno.